La sconfitta di oggi, cosa dobbiamo dire della sconfitta di oggi? Si fa una parte un po' strana, un campo molto molto pesante, è stata una partita equilibrata, abbiamo giocato non benissimo però ci siamo trovati a dare vantaggio, secondo me anche meritatamente, poi dopo abbiamo un po' mollato, allora abbiamo trovato due bei gol e abbiamo perso il gol. Oggi, considerando, era un momento per agganciarsi alle prime, se vincevamo sicuramente la classifica diventava molto interessante, invece così adesso siamo tornati nella zona di centro classifica però insomma c'è tempo per rifarci. Allora, anche se i giocatori non lo devono dire, dammi i due migliori in campo, lì hai poi fatto delle gatte? No, io direi il migliore in campo in assoluto è Giordano Squeri e il secondo posto per le corati. Oh, allora vi hanno anche impegnato. Sì, ci hanno anche impegnato. E c'è la biglia? L'hai toccato? Io poche volte oggi, non stavo in piedi, sarei troppo pesante. Vabbè dai, ti ringrazio, tanto poi ti rifai, lo sappiamo benissimo. Speriamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.